Assessore, le domande sono aumentate, è così? Sì, sono quadruplicate e questo è segno che questa misura serve e le famiglie ne hanno bisogno. Sono 1.350 le famiglie che hanno fatto richiesta, 450 quelle che hanno un'ISE sotto 10.000 euro e 850 le famiglie che hanno un'ISE invece sotto i 18.000 euro. Sono già iniziate le verifiche? Sono già iniziate le verifiche da parte degli uffici di Aset e dell'ufficio tributi del Comune di Fanno. Non ci sono grandi defezioni per cui comunque dovrebbero essere soddisfatte tutte le domande. Quanto avevate stanziato? Noi abbiamo stanziato intorno ai 200.000 euro. Ci tengo a ricordare che questa è una seconda operazione che facciamo in questa annualità utilizzando le risorse del nostro bilancio e che si affianca alla prima manovra dove abbiamo stanziato 400.000 euro per le attività produttive e sono risorse che abbiamo già condiviso in fase di bilancio di previsione quindi alla fine dello scorso anno con i consiglieri comunali, con le associazioni di categoria e anche con i sindacati per quanto riguarda soprattutto questa manovra che riguarda i nuclei familiari. Ora che cosa succederà nelle bollette di queste famiglie? Succederà che chi è beneficiario, chi ha fatto domanda e ha un ISE sotto i 18.000 euro vedrà a ricapitarsi le prossime due bollette con un importo da pagare uguale a zero. Chi invece ha un ISE sotto i 10.000 euro e quindi ha fatto domanda vedrà sia a ricapitarsi le due prossime bollette a zero ma anche si vedrà rimborsato della prima tranche della Tari di quest'anno direttamente sul conto corrente che hanno indicato al momento della domanda.